Tornano 9 le lunghezze di distanza tra le due formazioni dall'altra parte Gran Canestro Poi il pallone intercettato dalla difesa di Sant'Arcaggelo che si invola in contropiede con il numero 10 Buzzone la tripla di Mazzoni, questa è un'azione ben congegnata questa è un'azione perfetta, palla dentro, palla fuori, strapessa e poi il tiro piedi per terra con due metri di spazio ma ancora una volta Sant'Arcaggelo dall'altra parte Giannone che va a sfiorare il canestro, non c'è il fallo e invece è ancora lui, riparte la formazione romagnola Buzzone, semigame, appena poco più di un minuto dall'inizio della partita intanto la torna in attacco, lo fa con Mancini la tripla va ancora Sant'Arcaggelo, allora a cercare la via del canestro prende e spara la tripla a Buzzone davvero organizzata come squadra in difesa per ora Sant'Arcaggelo in questo inizio attaccano adesso gli uomini di Coachello Bernardi grazie a tutti grazie a tutti